Primo pareggio stagionale per la Rari Nantes-Frosinone che chiude 7-7 la sfida in trasferta contro la 0-9. Partita dai due volti con la grande partenza dei giallazzurri, avanti subito 3-0 grazie alle reti di Raffaeli e Costantini. Nel secondo tempo Derme e Mellacina allungano ancora il margine, ma i padroni di casa non mollano e tornano in partita. Alla fine del terzo tempo la Rari Nantes è avanti 7-5, ma nel finale arriva la rimonta e la beffa del pareggio della 0-9. La Rari Nantes allunga comunque la striscia di risultati utili consecutivi e sale a quota 10 punti al terzo posto della classifica. Siamo stati molto ingenui, ha dichiarato il tecnico Fabrizio Spinelli. Dispiace anche perché avevamo interpretato la gara nel migliore dei modi. Sabato torniamo a giocare in casa, servirà una prova di orgoglio per riconquistare subito la vittoria.